Ciao a tutti e benvenuti nel video di presentazione ufficiale dei nostri lipstick. I nostri lipstick sono stati creati per donare colore intenso e pieno con pigmenti 100% naturali. Tutti sono abbinati ad una matita contorno labbra. Le 8 nuance nascono dall'osservazione della natura, che stagione dopo stagione ci propone colori sempre diversi e sempre sorprendenti. I primi due colori, pesca chiaro e sabbia rosata, sono due bellissimi nude, che richiamano la primavera con le sue tonalità tenue e delicate. Il rossetto numero 2 è l'unico sheer di tutta la collezione, traslucido per un look fresco e leggero, ottimo per il make-up di tutti i giorni. I numeri 3, 4 e 5 sono delle gradazioni di fucsia. 3 fenicottero, 4 fragola, 5 ciliegia. Sono colori intensi e vibranti, ispirati all'estate. I numeri 6, 7 e 8 sono invece delle gradazioni di rosso, dall'arancio caldo e bruciato all'intensità del portone. La texture è cremosa e confortevole, il colore dura a lungo senza sbavare. Il finish è semi-matte. I lipstick si presentano in un bellissimo astuccio rosa perlato, con l'interno specchiato. Il packaging è lussuoso, in metallo nero matt. L'interno invece è luminoso, impreziosito dal dettaglio noro rosa. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e qual è il vostro colore di rossetto preferito. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere tutte le nostre novità. Ciao a tutti!